Se c'è un motivo per cui un'azienda fallisce, o è perché finisce i soldi all'inizio, o è perché i soci litigano. Come avete gestito il rapporto fra soci? È un compromesso ovviamente, più persone portano più competenze, ti danno maggiori chance di farcela, d'altra parte il rischio che ci sia un litigio più alto. Due di questi altri quattro soci ero amico da parecchi anni, gli altri due erano stati con noi nella start-up precedente che era fallita, si erano distinti entrambi. Per quanto riguarda invece la divisione dei ruoli, come vi li siete divisi e in base a che criterio? Ma guarda, abbiamo sempre fatto quello che c'era da fare, addirittura non abbiamo neppure identificato un amministratore delegato per pari anni all'inizio, perché non ci serviva, semplicemente io facevo quello che c'era da fare, gli altri quattro facevano quello che c'era da fare, in base a ognuno anche alle proprie capacità ovviamente. Poi dopo abbiamo deciso di identificare i ruoli in maniera un po' più formale e chiara, perché quando cresci e cominci ad avere più relazioni con l'esterno, c'è una confusione incredibile se non ci sono delle etichette. Io come gli altri siamo tutte persone che se mi dici che per i prossimi cinque anni devo pulire per terra e basta, e questo è quello che l'azienda necessita. Lo faccio sereno proprio.